Everybody get up! Gian Piero, dammi una mano per favore! Guarda come sono belli! Io non sono abituato eh! L'indirizzo ce l'ho, intracciarti non è un problema Ti telefonerò, ti offrirò una serata strana Il pretesto lo sai, quattro dischi, un po' di whisky Sarò grande, vedrai! Fammi spazio e dopo mi dirai Che maschio sei! Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai! Mentre lui... Lui chi è? 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 Già è difficile farlo con te, mollalo eh! Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? È distratto ma è certo di troppo, mollalo! Mi aspettavo lo sai? Cosa? Un rapporto un po' più normale Quale eventualità? Trovarmi una collocazione Ora spiegami dai L'atteggiamento che dovrò adottare Mentre io rischierei Di trovarmi al buio tra le braccia Ciao Roberto! Ciao Bella! Non è il mio tipo Lui chi è? Venite qua belli! No, non se ne parla proprio! Dai tesori! No, no! Venite! In Umbria! Vedo una bella cosa! Ciao! Ciao a voi! Si potrebbe vedere! Ciao! Si potrebbe inventare! Si potrebbe rubare! No, 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 no! Lui chi è? Lui è Roberto Magolia eh! Ricordatevi! Lui chi è? Ricordatevi bene eh! Lui chi è? Già è difficile farlo con te, mollalo! Il triangolo no! No, assolutamente no! Non l'avevo considerato! D'accordo ci proverò! Prova, prova! La geometria non è un reato! Garantisci per lui! Per chi? Per questo amore un po' articolato! Aia! Mentre io rischierei! Ma il triangolo io lo rifarei! Perché no? Lo rifarei! Sì! Lui chi è? Lui chi è? E vai! Grande la base per Roberto! Lui chi è? Lui chi è? E equivoca! Un po' equivoca! E si vedrà! Lui chi è? 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 molto bravo vado a scuola da Roberto Giglioni lui chi è? lui chi è? Gian Piero Vincenzi Roberto Madonia grazie Roberto Giglioni che vi aspetta domani sera allora posso dire un segreto prima di chiudere la serata